Cattedrale di San Panfilo colma di gente per l'ultimo saluto a Emanuele Anzini, l'appuntato scelto dei carabinieri di Zogno rimasto ucciso mentre prestava a servizio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Insieme a Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Angelo Tofalo, sottosegretario di Stato alla Difesa, e Giuseppe Linardi, prefetto dell'Aquila, c'erano i familiari, la mamma Eleonora, la figlia Sara, le sorelle Katia e la compagna Susanna. Sulmona ha abbracciato il suo eroe. Oggi è stato il giorno dell'ostrazio e del dolore. Tante lacrime e silenzio nella Basilica, dove il vescovo Michele Fusco ha ufficiato il rito funebre davanti ad una folla di fedeli commossi. Lele, noi lo chiamavamo così, era un ragazzo per bene, chiamava la montagna, camminava per mantenersi in forma, era l'uomo delle scelte, ha detto il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri. che non sarebbe sentito magari niente, ma che moltiplicato per molti, gli undici mila trolli che alle undici mila quadrugne dell'Arma ogni giorno fanno sul territorio, avrebbe garantito la sicurezza di cui l'educazione. Il facendo Cristo ciò ha trovato il suo destino. Questo è Emanuele. E a me piace dire questo è Emanuele, perché Emanuele è la persona di lui, il suo essenzio. Sarà una guida per noi tutti. Sul mondo si è svegliata veramente, sgomenta per questo episodio. Devo dire che siamo tutti partecipi per il dolore per la famiglia Anzini, ma anche per il dolore per l'Arma dei Carabinieri, perché ricordiamo che Emanuele era uno dei ragazzi dell'Arma, come tanti, che presidia le nostre strade per la nostra sicurezza. Era anche una splendida persona perché si occupava di volontariato, quindi faceva il volontario alla Croce Rossa ed era un bravo padre. Quindi una persona, un bravo carabiniere e generosa persona. Un ragazzo che con la sua vita ha dato un esempio a tanti giovani di oggi. Un ragazzo che a vent'anni ha fatto una scelta importante, quella di entrare nell'Arma e quindi di offrire la sua vita per la sicurezza di tutti noi. Un esempio senz'altro da seguire, con grande dolore oggi l'abbiamo salutato e il pensiero non può non andare alla sua famiglia, alla sua ragazza Sara, che veramente abbraccio da parte di tutti e alla quale auguro davvero ogni bene perché il suo papà dall'alto del cielo sicuramente veglierà su di lei. Grazie. Grazie. Grazie.